Siamo in compagnia di Marco Donati, consigliere comunale capogruppo di Scelgo Arezzo. Avete nei giorni scorsi chiesto dei chiarimenti all'amministrazione Chinelli in merito a delle somme riconosciute alla Fondazione Guido d'Arezzo. Abbiamo chiesto dei chiarimenti in consulio comunale in merito a uno stanziamento ulteriore di 100.000 euro a favore della Fondazione ma poi andando a fare un accesso agli altri abbiamo scoperto che in data 23 giugno questo ente molto importante ha chiesto riscifre straordinarie per un valore pari a 390.000 euro il 23 giugno per una serie di attività tra l'altro che dovrebbero riguardare l'estate o sostanzialmente il secondo semestre dell'anno. Già la Fondazione riceve trasferimenti ingenti dal Comune di Arezzo nel 2022 1.640.000 euro di trasferimenti solo dal Comune di Arezzo. Non riusciamo a capire di quanti risorse possa aver bisogno questa fondazione perché non vediamo poi una risposta in termini reali dal punto di vista degli eventi culturali in città della produzione di eventi culturali. In più ci sembra strano che il 23 giugno si chiedano soldi che servirebbero per di fatto il giorno dopo quindi dov'è la programmazione di questo ente che non fa altro a chiedere i soldi e l'amministrazione risponde concedendogli. Ci devono far capire esattamente queste risorse se vengono in qualche modo spese in maniera efficace perché pochi giorni fa alcuni giornali titolavano come anche gli eventi estivi la capacità di produrre eventi culturali in città non sia particolarmente efficace. Quindi non è possibile che un ente come questo che riceve risorse che mai gli assessorati alla cultura hanno avuto ricordo negli anni precedenti da parte del Cuneo di Arezzo come è possibile che le risposte poi in termini di eventi prodotti, di cultura prodotta in città sia così scarsa. Quindi dobbiamo capire cosa non funziona in questo strumento che tra l'altro dovrebbe coinvolgere privato e pubblico e invece qui c'è solo il pubblico che paga tanto e dà tante risorse che francamente finiscono in un pozzo senza fondo.